Ciao amici e Revotech a tutti! Stiamo provando questo OnePlus 12 da un mese abbondante e usciamo solo ora con la recensione perché sapete noi non abbiamo fretta e soprattutto non abbiamo fretta di dire cose non vere, cose che ingannano la community, aspetti che vanno approfonditi e che non vanno frettolosamente giudicati così, tanto per dire qualcosa e tanto per far uscire un video per fare visual e soprattutto disinformazione e ingannare così la community. Non accettiamo che vengano dette falsità su un prodotto, sia che ci piaccia sia che non ci piaccia, io questa cosa non la mando giù. Detto questo noi l'abbiamo provato, ricordatevi sempre che la nostra è un'opinione comunque soggettiva e vi diciamo come ci siamo trovati nell'utilizzo quotidiano del dispositivo. OnePlus ha lanciato questo smartphone OnePlus 12 che potrebbe tranquillamente avere una denominazione molto più pompata tipo OnePlus 12 Pro, OnePlus 12 Ultra, quindi non fatevi ingannare dal fatto che sia solo OnePlus 12 e stop perché finalmente abbiamo un flagship killer che va a competere con tutti i top di punta usciti quest'anno. Poi qualcuno potrà dire, oh ma non vale 1000 euro? Ah perché infatti gli altri che superano abbondantemente questa soglia li valgono? Solo perché è OnePlus e non si chiama iPhone o non si chiama Samsung? Ditemi il motivo. Questo device ha ricevuto diversi aggiornamenti in più rispetto al OnePlus 11 dello scorso anno, come ad esempio un display migliorato, un SoC più veloce, una batteria più grande, una fotocamera migliorata e di molto e anche il ripristino di una ricarica wireless che l'anno scorso non era presente. Il prezzo del telefono è leggermente lievitato ma già ora lo potete trovare attorno agli 800-850 nel mercato italiano e mentre altri dispositivi con queste caratteristiche hardware, a parte Nubia Z60 Ultra che comunque ha un ottimo prezzo, tutti gli altri, se consideriamo i brand più blasonati, sforano tranquillamente i 1000 euro. Ma non voglio spoilerarvi oltre, tutto il resto ve lo raccontiamo subito dopo la sigla! Mi raccomando venite sul nostro blog Ceutec.it, blog di tecnologia più faigo che ci sia, a leggere tutte le nostre recensioni scritte, date un bel like al nostro video se vi è piaciuto, mi raccomando salutiamo anche gli amici di malattie di smartphone su Telegram e tutto il loro network, venite anche sul nostro gruppo Revotech Group, vi aspettiamo numerosi nella nostra grande famiglia perché come dico sempre, Revotech è l'unico canale che non è un canale ma è una famiglia. Abbiamo in confezione ovviamente il telefono in versione nera, in colorazione black, effetto seta, 16 giga di ram di tipo lpddr5x e 512 giga di storage interno di tipo ufs 4.0. Abbiamo poi un caricabatterio SuperVoc da 100 watt e un cavo dati usb a usb c. Non c'è una custodia protettiva in confezione, c'è poi il tupperello per l'estrazione del vano delle due nano sim, non è espandibile, una guida rapida e un foglietto per le informazioni sulla garanzia. Veniamo subito al display perché è uno dei migliori display mai visti su un top di gamma. OnePlus 12 è dotato di un display AMOLED 2K da 6.82 pollici 3168x1440 pixel di tipo LTPO con frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz dinamica. Il telefono ha una densità di pixel di 510 ppi. Questo display è luminosissimo perché ha una luminosità di picco, secondo il brand, che raggiunge persino i 4500 nits e funziona con l'HDR e anche la luminosità massima tipica è aumentata fino a 1600 nits distribuita su 8192 livelli separati. Offre un'ottima resa cromatica perché ha una gamma di colori di CP3 al 100% e la tecnologia Pro XDR su OnePlus 12 offre inoltre una forte luminosità sotto la luce diretta del sole che ci ha sempre permesso di vedere il tutto con risultati cristallini. È possibile poi scegliere fra le modalità di colore dello schermo vivido, naturale e Pro. C'è anche un'opzione per visualizzare i colori in una modalità ancora più naturale che regola il display in base alle condizioni di illuminazione ambientale. Il telefono poi ha una tecnologia di oscuramento ad alta frequenza a 2160 Hz. Quando la luminosità si attesta dai 70 nits in giù, l'oscuramento si attiva e passerà automaticamente alla modalità di oscuramento PWM a 2160 Hz per mantenere colori accurati sul display con un'esperienza visiva molto più confortevole per l'occhio. Il telefono è dotato di protezione Corning Gorilla Glass Vitus 2. Ovviamente non ha un led di notifica ma è dotato di un always on display completo che vi fa anche vedere la notifica quasi completa nel momento in cui la ricevete senza dover sbloccare nulla. Ovviamente in quel momento dovete avere l'occhio sul display. Rimarrà comunque attiva l'icona dell'app che vi ha notificato. C'è anche l'opzione di riproduzione musicale nell'all always on display con l'integrazione di Spotify. La nostra versione nera ha una finitura opaca del vetro effetto seta. Sul retro è presente la protezione Corning Gorilla Glass 5. Vediamo le misure che sono 163,3 x 75,8 x 9,2 mm di spessore con un peso abbastanza significativo di 220 grammi. Il peso è giustificato in parte anche dall'enorme batteria da 5.400 mAh, una delle batterie più capienti che sono state implementate quest'anno sui top di gamma. Purtroppo come certificazione abbiamo solo la IP65 per la resistenza alla polvere e agli schizzi e manca il grado di protezione IP68 che è stato implementato un po' su tutti i top di gamma di quest'anno. Il telefono ha cornici laterali ultra sottili che lo rende veramente facile e confortevole da tenere in mano. Ha un fortissimo motore di vibrazione regolabile a piacimento che ci è piaciuto tantissimo e lo mettiamo fra i migliori della categoria. Il telefono frontalmente in alto ha poi un buco con la mente intorno che ospita una fotocamera da 32 megapixel. Sopra il display c'è un auricolare sul bordo superiore che funge anche da altoparlante secondario. Abbiamo poi uno scanner di impronte digitali sotto al display veramente veloce, reattivo, sempre pronto, che non fate in tempo nemmeno a sfiorare che vi sbloccherà immediatamente il telefono. C'è anche uno sblocco facciale che risulta persino più veloce anche se ovviamente meno sicuro in ogni condizione anche al buio perché si illuminerà il display e riuscirete con il doppio tap a farvi riconoscere immediatamente in ogni contesto. Questo display ha anche una funzione Aqua Touch che è una nuova tecnologia che garantisce la precisione del tocco se lo schermo del telefono è bagnato. Se vi capiterà di utilizzarlo sotto una pioggerella riuscirete comunque a utilizzarlo. Ovvio che se vi arrivano su display delle gocce grosse così e si bagna completamente l'effetto Aqua Touch non avrà alcuna efficacia. Venendo al posizionamento dei tasti alle porte il pulsante di accensione è presente sul lato destro insieme al bilanciere del volume. Il cursore degli avvisi, detto anche tupperello delle notifiche una figata pazzesca peculiare di OnePlus, è stato spostato sul lato sinistro in alto. Questo OnePlus 12 ha più del 20% di alluminio dal telaio lega di alluminio agli interni in lega di magnesio e alluminio. Nella parte inferiore sono presenti lo slot dual sim, il microfono principale, la porta USB type C con uscita video utilissima e la griglia dell'altoparlante. Il microfono secondario si trova nella parte superiore insieme a una presa d'aria per l'altoparlante e ha un modulo a infrarossi che può trasformare il telefono in un telecomando. Veniamo alla fotocamera. Abbiamo un modulo fotocamere che è molto ben integrato nella scocca in un design che può sembrare del tutto simile, anzi è del tutto simile a quello di OnePlus 11 però le dimensioni si sono allargate notevolmente e quest'anno abbiamo un modulo principale da 50 megapixel con il nuovo sensore Sony Lit 808 con apertura f1.6, stabilizzazione ottica dell'immagine, una fotocamera ultrawide da 48 megapixel da 114 gradi con sensore Sony IMX581 da mezzo pollice e apertura f2.2 che integra una macro da 3,5 centimetri e un sensore Omnivision veramente di qualità OV64B che troviamo anche sullo Z60 Ultra Nubia da 64 megapixel, un teleobiettivo periscopico con apertura f2.6 con stabilizzazione ottica dell'immagine e il zoom ottico 3x e uno zoom integrato in sensor lossless fino a 6x quindi con 0 perdita di dettaglio fino a 6x e uno zoom digitale fino a 120x pompato al limite. In più abbiamo una fotocamera frontale da 32 megapixel con sensore Sony IMX615 e un'apertura f2.4 con registrazione video fino a 4k a 30 fps. Finalmente aggiungo l'interfaccia utente della fotocamera della Oxygen OS è familiare, c'è la modalità pro, la modalità panorama, macro, film, slow-mo, timelapse, video dual view e scanner di testo e la modalità stellata è tilt-shift. La fotocamera posteriore offre un'uscita finale da 12.5 megapixel utilizzando il pixel binning e le immagini della fotocamera anteriore hanno una dimensione da 16 megapixel. Gli scatti alla luce del giorno sono veramente eccezionali con colori reali grazie al nuovo sensore da 50 megapixel e la gamba dinamica è migliore con l'HDR automatico. Anche lo zoom è davvero buono perché il telefono ha come dicevamo uno zoom ottico 3x e uno zoom integrato nel sensore fino a 6x. Diciamo che fino al 30x ha un'ottima resa l'immagine anche se dal 40x in su si cominciano a perdere dettagli quando si ingrandisce ulteriormente. Ma è normale che sia così e questo succede anche sui top top top. Il telefono è dotato anche di modalità asseblad ritratto specificatamente studiata. La modalità ritratto 2x offre 50 mm per ritratti medio lunghi o medi e la modalità ritratto 3x equivale a un 70 mm e può essere utilizzata per ritratti ravvicinati medi o primi piani con sfondi più complessi. Grazie al teleobiettivo periscopico i ritratti 3x sono molto migliori rispetto al teleobiettivo 2x che abbiamo visto nella versione dell'anno scorso. Anche quando si ingrandisce ulteriormente le immagini hanno un ottimo aspetto e dettaglio. Gli scatti con la ultra granangolare sono veramente buoni soprattutto se scattati alla massima risoluzione e infatti suggeriamo in piena luce di utilizzare tale modalità per avere panorami più definiti e dettagliati. Gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione sono veramente notevoli con tanti dettagli e meno rumore. La modalità notturna è sia automatica che selezionabile dal menu dedicato. Ovviamente richiede alcuni istanti per l'elaborazione della foto ma qui viene in aiuto la stabilizzazione ottica dell'immagine. Avremo sempre scene fedeli colori molto naturali reali con un'ottima gestione del bilanciamento del bianco e soprattutto delle forti luci. L'algoritmo non va a stravolgere la scena come su altri device ma propende per una rappresentazione sempre molto vicina a ciò che l'occhio vede nella realtà. Pur mantenendo un rumore pressoché impercettibile. Ho davvero apprezzato come viene gestita questa modalità. Soprattutto i colori. I colori sono fedeli sempre in ogni circostanza e anche il passaggio dal sensore principale alla camera ultrawide non ha un cambiamento di tonalità. La fotocamera frontale poi è una 32 megapixel e fa un ottimo lavoro alla luce del giorno ma è buona anche in condizioni di scarsa illuminazione e restituisce dettagli e colori sempre precisi e mai troppo saturi. Il rilevamento dei bordi è sempre riuscito con successo nei ritratti. A livello di video possiamo registrare fino a 8K a 24 fps, 4K a 60 fps, anche in Dolby Vision HDR, slow motion 1080 a 240 fps e la fotocamera frontale può registrare video fino a 4K a 30 fps. Abbiamo sia la stabilizzazione ottica che elettronica e fa veramente un bel lavoro. Ottimo l'autofocus morbido senza scatti e anche la stabilizzazione nei movimenti, nei saltelli durante la camminata, i cambi di direzione è sempre ben gestita. E poi possiamo passare tranquillamente da una lente all'altra a 30 fps in 4K. C'è poi una modalità ultra stabile che però purtroppo è limitata a 1080p a 60 fps ma non ne avrete bisogno. Veniamo all'interfaccia. OnePlus 12 a bordo è guidato dalla Oxygen 14 basato su Android 14 con patch di sicurezza al momento della recensione del 5 gennaio 2024. Il telefono riceverà 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Da questo punto di vista altri brand fanno meglio con un supporto che dura sicuramente di più. Oxygen OS offre Trinity Engine con Hyper Touch, Hyper Boost e Hyper Render per migliorare l'esperienza software. C'è una nuova funzione Go Green tra l'altro che promuove la consapevolezza del cambiamento climatico che potete abilitare nell'always on display. Sui 16 GB di RAM LPDDR5X avrete 14.9 GB di RAM utilizzabili e circa 9 GB di RAM liberi quando le app predefinite sono in esecuzione in background. Abbiamo anche la funzione di espansione della RAM dinamica che utilizza lo spazio di archiviazione integrato come RAM. Questo fino a 12 GB di espansione RAM aggiuntiva. Su 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 avrete circa 455 GB di spazio di archiviazione libero. Una cosa che notiamo nell'interfaccia Android di OnePlus rispetto ad altre brand come ad esempio Pixel o Samsung, la totale assenza di un'implementazione di intelligenza artificiale generativa su OnePlus 12. E per il momento non ci sono funzionalità degne di nota basate su questo aspetto, ma abbiamo avuto notizia che anche OnePlus implementerà l'intelligenza artificiale a breve. Perciò stiamo sul pezzo e continuiamo a monitorare gli aggiornamenti. C'è poi una funzionalità molto utile per quanto riguarda le notifiche che permette di nascondere il contenuto delle notifiche stesse con il riconoscimento facciale per avere una miglior privacy e poter leggere le notifiche in tutta tranquillità. Ad esempio se il telefono rileverà che chi sta guardando lo schermo non siete voi, con la registrazione facciale ovviamente, e vedrà che ci sono altri volti insieme a voi nella schermata di riconoscimento, nasconderà il contenuto del banner della notifica. E questa è veramente una figata. Abbiamo poi YouTube Music che è il lettore musicale predefinito perché non c'è un lettore proprietario, ha Dolby Atmos che funziona con le cuffie e ha una modalità smart film, gioco e musica personalizzabili. Non ha il supporto per la radio FM. L'audio attraverso gli autoparlanti è sicuramente potentissimo senza alcuna distorsione anche a tutto volume. Abbiamo trovato molto molto piacevole la corposità e la morbidezza dell'audio anche con toni bassi. Vi facciamo sentire. L'audio attraverso l'audio anche con toni bassi. L'audio attraverso l'audio anche con toni bassi. Altre opzioni di connettività abbiamo il Wi-Fi 7, 800-211 BE, 2.4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.4, GPS, doppia banda L1 più L5, GLONASS e Galileo. In più abbiamo Beidou, AGPS, QZSS e Navic. Abbiamo il supporto OTG e anche il supporto NFC. Non manca nemmeno il supporto alla eSIM. Anche per quanto riguarda la qualità delle chiamate è davvero buono e non abbiamo riscontrato cali di volume attraverso l'auricolare e anche chi stava dall'altra parte ci ha sempre sentito benissimo. Mai buchi per quanto riguarda la ricezione che è davvero sopra la media. Per quanto riguarda le prestazioni, OnePlus 12 è uno dei primi smartphone a essere stato lanciato con la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. È fabbricato secondo la tecnologia del processo TSMC a 4 nanometri. Promette miglioramenti delle prestazioni del 30% e un'efficienza energetica migliorata del 20%. Il telefono ha un ottimo sistema di raffreddamento. Non abbiamo mai riscontrato problemi o cali di frame nei giochi ad alta intensità grafica. Con Geekbench 6 abbiamo raggiunto risultati attorno ai 2000 punti in single core e a 6000-6000 qualcosa in multi core. Quindi sono ottimi i risultati sulla carta. Per quanto riguarda la durata della batteria, il telefono è dotato di una batteria molto grande, da 5.400 mAh. Può durare facilmente per un giorno intenso e per due giorni con un uso normale. Abbiamo sfondato spesso e volentieri la soglia delle 7 ore con un residuo del 30-35% nel dopocena. Quindi veramente quasi un battery phone, se contiamo che è un top di gamma dal punto di vista dell'hardware. Quindi i consumi sono inevitabilmente maggiori. Abbiamo sempre tenuto il refresh rate dinamico, automatico e il 5G attivo e la luminosità automatica. Con anche l'impostazione della risoluzione dello schermo su automatica. In più abbiamo una super ricarica rapida SuperVoc da 100 Watt che può andare da 0 a 100 in meno di mezz'ora. Ci sono poi la ricarica intelligente, l'opzione per interrompere la ricarica all'80% e la ricarica rapida intelligente che può caricare il dispositivo più velocemente se la batteria è troppo scarica. OnePlus 12 riporta anche su questo smartphone la ricarica wireless che era stata rimossa nella versione precedente. Il telefono ha una ricarica flash wireless fino a 50 Watt e supporta anche una ricarica inversa wireless. Può essere caricato fino al 100% in meno di un'ora con un caricabatterie wireless compatibile. Insomma secondo noi se trovate questo telefono abbiamo già visto anche su siti abbastanza conosciuti che montano comunque la Oxygen OS originale sull'hardware che è lo stesso, identico. Su siti tipo Trading Shenzhen o Wanda Mobile andate a spendere circa 680 euro che secondo noi è veramente un best buy per questo prodotto che si attesta con prezzi decisamente più bassi rispetto agli altri flagship che abbiamo visto finora. Quindi secondo noi OnePlus 12 è il flagship killer di questo 2024 senza se e senza ma perché non gli manca assolutamente nulla. Dite la vostra, dite se ce l'avete, come vi trovate. Qua in Italia comunque lo trovate già a prezzi attorno su alcuni store a 800-850 qualcosina in più in base alle promozioni o qualcosina in meno in base alle offerte del momento e sono curioso di sentire soprattutto la vostra perché a me questo smartphone ha davvero entusiasmato. L'abbiamo acquistato con i nostri soldi, non ci è stato mandato da OnePlus assolutamente così come abbiamo acquistato questo Watch 2 che si integra alla perfezione. Non abbiamo nessuno che ci soffia sulle spalle e ci lancia bonifici dall'alto perciò state all'occhio ragazzi. Volete veramente evitare di buttare nel cesso i vostri soldi? Ecco, non dico seguite Rebotech per forza ma almeno ragionate con la vostra testa, sempre e comunque. Ci vediamo prestissimo, mi raccomando venite sul nostro blog ceotech.it a leggere tutte le nostre recensioni scritte. Salutiamo Nando75, link in descrizione su Telegram, il suo canale con tutti i prodotti nuovi e usati, smartphone di fascia alta, anche import a prezzi veramente interessanti. Saluto anche l'amico Vincenzo De Caro e l'amico Der Commissar Technology. Ci vediamo prestissimo per tanti altri contenuti qui su Rebotech. Un saluto da Pasqui e Rebotech a tutti. Ciao!